Da diverso tempo la città di Agropoli è interessata da numerosi furti sia in centro che in periferia, destando non poca preoccupazione da parte della comunità. Abitazioni, centri commerciali, istituti scolastici, attività artigianali, negozi sono ormai alla merce dei ladri. Solo qualche giorno fa in località Moio, ad Agropoli, durante la notte alcuni malviventi hanno tentato di rapinare un'attività artigianale. Furto, per fortuna, non andato a buon fine. In ragione di ciò, il comitato Rione Moio, composto dai cittadini che risiedono nella frazione, ha ritenuto opportuno chiedere una riunione urgente con il primo cittadino di Agropoli a Damocopola e con le forze dell'ordine per avviare un piano di sicurezza. Infatti, i cittadini della località Moio hanno protocollato in comune ieri mattina la richiesta e sono in attesa di un riscontro da parte del sindaco Coppola. Quello dei furti è un fenomeno di particolare allarme sociale che ormai sta incalzando sempre di più ed è per questo motivo che chiunque ne fosse vittima deve rivolgersi agli organi preposti, carabinieri, vigili urbani e denunciare quanto accaduto. Limitarsi a denunciare in un post scritto su Facebook il più delle volte non ha risvolti e non pone in essere un potenziamento vero e proprio dei controlli da parte degli organi preposti. Spesso si utilizza Facebook come mezzo veloce per mettere in risalto diverse problematiche, ma non sempre efficace. Le stesse forze dell'ordine, infatti, invitano i cittadini a denunciare per avere una tracciabilità dei furti in città, così da poter attivare un piano di sicurezza per contrastare e ridurre episodi di questo genere.